buongiorno amici di scontonna oggi vi portiamo l'ido alta marea a fondachello un luogo in cui lasciarsi viziare per tutto lo scorrere delle tue vacanze non è un semplice beach club ma è un angolo di paradiso dove la tua vacanza diventa un'esperienza unica in una semplice giornata tra mare e pure divertimento l'ido alta marea è l'ideale per chi vuole relax e intrattenimento è il posto giusto in cui lasciarsi viziare in un contesto naturale e paesaggistico stupendo all'insegna della massima professionalità l'ido alta marea è la location giusta per trascorrere le tue giornate estive che aspetti dunque compra il tuo coupon e recati subito all'ido alta marea ciao 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 ciao